Ciao siamo Fabriano No 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 Popo che capito che hai detto? Ciao siamo Fabriano In fermento per il Fabriano Creative City Come potete vedere stiamo ultimando gli ultimi lavori In questa meravigliosa piazza, la piazza del comune di Fabriano Stiamo a chiedere agli espositori di venire a fare un'intervista Per capire come si sono trovati Cosa stanno proponendo per questi tre giorni di creatività Cos'è la creatività? Riguardo a cosa? In generale creatività cosa le fa pensare? Il nome stesso lo dice, creare qualcosa di meglio per migliorare sempre E finora adesso ancora diciamo che stiamo partendo Però come vi sembra la manifestazione? Sembra bella, sembra, dobbiamo vedere ancora Però perlomeno è interessante, io muovo un po' Fabriano Allora venite giù che vi do anche il programma così non perdete nessun evento Buon giro, grazie mille Ti piace Fabriano? Sì mi piace E come la vedi oggi che c'è il Fabriano Creative City, anzi in questi tre giorni ci sarà? Beh sicuramente la vedo più viva rispetto ad altri giorni È questo no? Che ci piace insomma di un paese, vederlo vivo E allora resterai stasera, girerai un po', vedrai l'artigianato, vedrai qualcosa di anno gastronomico Tra l'altro alle 20, vieni all'aperitivo, si metterà in verde al mercato coperto, vero? Va bene, sì, sono curiosa, molto curiosa Ciao ragazzi, secondo voi che cos'è la creatività? Visto che siamo qui al Fabriano Creative City È il dare frutto ai propri pensieri? Immaginazione, non lo so Immaginazione è bella cosa, vi piace Fabriano in questa veste anche se insomma stiamo iniziando? Almeno c'è qualcosa ogni tanto La rendiamo un po' più viva dai